Simone Ostan, il protagonista della Microspace Competition del mese, è un artista che ama sia i contrasti sia le esplorazioni. Ama il contrasto tra bianco e nero, il contrasto forte, deciso, tra pieno e vuoto, tra precisione quasi maniacale del segno, tipica della grafica, e l'esplosione creativa della pittura. Ama però anche l'esplorazione, soprattutto delle forme di comunicazione, che si affiancano e si combinano nelle sue opere. Comunicare, ecco il messaggio che informa la sua opera. Comunicare, in tutti i modi, in tutte le declinazioni possibili, con codici segreti che devono essere decodificati, con dei simboli che sembrano quasi musicali, o fornendo di un volto, con il quale possa dire la sua, il segno grafico. Oppure comunicare con il corpo, tenendosi per mano. Nelle sue opere, la lettera A, la prima lettera dell'alfabeto, l'alfa, simbolo dell'inizio di tutte le cose, utilizza un intreccio di mani per uscire allo scoperto, per emergere dal terreno, per mostrarsi e parlare a chi, affascinato, saprà prestarle orecchio.